Ciao e bentornato a Dark Side, caro visitatore. Oggi ti mostro ben 5 avvenimenti paranormali che forse ti faranno rabbrivedire. Se sei un amante dell'horror e dell'occulto, questo è il canale che fa per te. E soprattutto, sappi che ora siamo presenti su TikTok, quindi perché non ci segui anche lì? Numero 5. JB registra l'attività paranormale su TikTok quando la portiera della sua macchina si apre da sola. La portiera della macchina si apre ancora di più e poi si vede una sfera nera volare oltre. Sembra che tutto ciò possa essere paranormale, finché non guardi bene gli alberi che soffiano e tenendo conto che la portiera della macchina probabilmente si è spalancata perché è una giornata ventosa o probabilmente era un riflesso della lente che si staccava dalla portiera della macchina e la seconda sfera nera sembra all'ombra di un uccello che vola. Numero 4. Un figlio molto giovane viene nella stanza dei suoi genitori alle 3 del mattino per dire loro che c'è qualcosa nella stanza con lui. Loro pensano che sia uno strano comportamento, quindi montano le telecamere in tutta casa e alle 3 del mattino catturano queste larghe facce spaventose che si sporgono e guardano direttamente alla telecamera. Spero davvero che questo sia un video fake senza nessuna storia perché noi non lo sapremo mai di certo. Numero 3. Questa porta riesce a rimanere aperta per 5 secondi. Dopodiché si richiude lentamente da sola e vorrei capirne il motivo. Sembra essere una porta molto leggera e forse la sua casa è fatta in pendenza così questo potrebbe spiegarne il motivo. In alternativa, questa casa è infestata? Non credo, ma mai dire mai. Numero 2. Earl Quest. È certo che il suo specchio nella sua casa sia infestato perché vede sempre cose strane con la coda nell'occhio. Un giorno decide di registrare dietro di lui per capire una volta per tutte cosa sia esattamente il problema. Prova a immaginare la sua reazione ad un evento del genere. Un normale ragazzo lascerebbe cadere il telefono e scapperebbe via il prima possibile, ma lui no. Quindi, che sia un montaggio, non riesco a capire se lui se ne accorge oppure neanche nota il suo gemello malefico girarsi verso di lui. Numero 1. Questa tittocchiera vive in un hotel infestato costruito su una serie di tunnel. Quindi decide di andare a caccia di fantasmi con l'app TikTok e vedere quale realtà le mostra. La prima cosa che è nota è una coppia di bottiglie antiche che sembra avere un fantasma attaccato all'oro. È tutto nero-rosso, che è molto diverso dai colori psicodelici che di solito vengono visualizzati dall'app. Ora è il momento di lasciare la sua stanza e vedere cos'altro si trova in giro nei corridoi. All'inizio del video non vedi nulla, fino a quando poi, verso la fine del corridoio, incontra questo. Il video non sembra essere stato editato. C'è però da dire che quella figura può essere benissimo un complice, o addirittura un uomo, pagato per spaventare i fan. Oppure è davvero un'ombra che ha preso vita per spaventarla? Che dire ragazzi? Questi erano brevemente 5 video interessanti da vedere e che forse ti avranno spaventato. Per me, e da un mio punto di vista, sono tutti dei fake, che si sono fatti sgamare anche abbastanza facilmente. D'altro canto, la tua opinione conta qui. E quindi ti chiedo, cosa ne dici di tutto questo? Se ti piace l'horror, allora devi seguirci anche su T-Toker. Sicuramente DarkSide è il posto che fa per te. Ciao amico! D'altro canto, la tua opinione è il posto che fa per te. D'altro canto, la tua opinione è il posto che fa per te.